Ritrovato, privo di vita, Vincenzo Caggianese, 79enne, di Montecorvino Rovella. Il corpo nella serata di ieri è stato scoperto in un dirupo ad olevono sul Tusciano. L'anziano era scomparso da Battipaglia, dove viveva con la compagna, una settimana fa, sabato scorso, e poi non si sono avute più le sue notizie. Il cadavere di Caggianese è stato trovato in fondo ad un dirupo assalitto frazione di olevono sul Tusciano, mentre l'auto dell'anziano, una Fiat Panda, con cui si era allontanato da Battipaglia, è stata trovata poco lontano dal dirupo.